Abbiamo parlato della pista ciclabile Fano-Trave-Fenile, spiegando anche che con la luce di nuove piste ciclabili che arriveranno con quelle dell'Interquartieri e con quella dell'Arzilla ci sarà una capacità di andare in sicurezza dai quartieri di Sant'Orso, dai quartieri di Fenile fino al mare. Questa è una bella risposta anche rispetto al passato. Ovviamente abbiamo affrontato anche il problema del tratto che non si sta realizzando perché lì c'è un contenzioso, è quello che riguarda il ponte e lì ci siamo assunti una responsabilità. Io, il Presidente della provincia, che ringrazio, che se non troviamo una mediazione in questo periodo in cui i lavori stanno procedendo ci assurremo la responsabilità di andare avanti comunque perché non mi potrei mai permettere che per causa di un pezzo sul ponte non realizzato potesse succedere un incidente e qualcosa lo avrei sulla coscienza. Allora, preferisco assumermi una responsabilità in più, andare avanti e dare una risposta ai cittadini e penso che i cittadini apprezzino il coraggio anche di scelte di questo tipo. Nel momento che si assumono delle responsabilità bisogna farlo anche assumendosi qualche rischio, ma quando lo si fa per fin di bene della gente io penso sia sempre una bella cosa.